Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Signori, oggi secondo episodio della serie Meta Hunting offerto da Level Up. Oggi vi porto un video con l'M16, una partita con l'M16, 32 kill, con quest'arma che è stata abbaffata recentemente ed è un'arma forte sia da corto che dalla lunga distanza. E oltre a questo vi voglio ricordare che è uscita la super doppia edizione di Halloween di Level Up, avrete il 20% di sconto, basta che andate sul sito levelup.it, scegliete il vostro gusto preferito, inserite il codice sconto SAVIULTRAS90, versate, shakerate e gustate il vostro gusto preferito. Vi lascio al video ragazzi, è bello. Shami però delle luci per la tua stanza te le puoi pure comprare, Shami. No! No, no quel che è il corpo a corpo è wifi. Unito a torre, si è appena buttato. No, prende il cane. C'è gente qua, eh. C'è gente che fight anche agli hangar, mi sa. O anche che t'hai da due. Dentro! 13 metri, uno alla mia sinistra. Stacca a terra. Vovora. Vovora, vovora. Piloto io. Versaglio taglia, contrassegnato, uccidete. Quanto sotto? Quanto sotto? Veloce. Versaglio taglia, eliminato. Ben fatto. Che trigione. UAP, alleato in sorbolo. Appio, scansione radar. Posso guidare io. Prendo i comandi. Passaglio taglia, eliminato. Ben fatto. Ah no, ma eh. Io vovo veramente, raga. La mia ce l'ha presa a morte con quelli, amma mia. Questo è disperato. Ti è servita una raffiga. Via. Noi ci togliamo la isciara. Versaglio taglia, eliminato. Ben fatto. Ci sono tre sciagalli qua. Questo è il suo re. Ma credi che significa, che cos'è, perché è la trentesima volta che trovo uno in schema Troika. Fai questo. Abbiamo salvato. Aiuto. No, se Ipsi si è un totto. Salvo a bordo. Va bene qui? Eh sì, fa squadra. No! Non te occuparti. Ce la farai. No, ragazzi, c'è stato perso. C'è stato un cecchino. Anche io, stavo leggendo la chat. Da query. Un attimo che si fanno esplodere qua. Sì, sì. Idem, idem. Stavo leggendo. Ah, ragazzi, c'è un cecchino da query, praticamente, abbiamo andato il pila. Eh, già. Mi tratta un a b, per favore. Lancio d'equipaggiamento a lei, a lei. Quante pretese che ha lei. Faccio due armi con potere d'arresto. Di cosa faccio questo? Ce l'ho trovato. Ci ho trovato due in una partita. Ok, sopra il parcheggio, c'è dentro il comportamento. Bersaglio taglia e eliminato. Ben fatto. Ho crackato quello lì. Ok, fantasma, 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 dietro di me. Non è vero. Ma da dove? Ma quanti team ci sono con fantasma? T'è pieno. Lo stunnati. Guarda te che vomito. Ma questo è dei T8, T8? Secondo te, eh? Sì, 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 sì. Tutti con fantasma. Oh, c'è che c'è gente. C'è sopra. UAV, nemico, in volo. Faccio. Al presto momento saltava. Un gallo. Non abbiamo soldi, ragazzi. Sì, 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 sì. Un centimetro di testa mi vedeva. Che forti del mondo, fra. Ti scecchini qui avrete. Questa è sopra, eh, sa? Sì, 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 sì. Lo so, mi stava proprio qua. Mi tocchia lo shop, Savi. A terra, a terra. Chi ha votato il bombarda? Io. Ne ho due dietro di me? No, Savi, potevi restarmi lo shop. Ah, scusami, scusami. Un attimo. Uno fantasma, eh. Polizia. Sovra polizia. Mi hanno colpito. Mi lascio, mi lascio, tranquillo. Ma lì mi beta. Ma dai, anche sopra il c... Mamma mia. C'è un cecchino, c'è un cecchino qui, sa? Sta salendo, sta salendo sempre. Oh, c'è tutto sempre. Altri? No, da me no, per ora. Ce n'è uno davanti a Casa Verde, davanti allo shop. Stazione, stazione medica segnalata. Annullare. Perché me lo spinga due volte? Uno sotto di me, uno sotto di me. Ho messo giù con la pistola, uno? Ma che lo sei, fraga? Direttiamoci verso la zona... Hanno restato davanti... Mamma mia, c'è ancora quello col cecchino là. Eh, riuscite a fare un triple, raga. Dove li hai? No, no, dov'è? Ce l'ho morto. Sopra... Scendi, 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 scendi. Dito qua. Dito, craccato, craccato. Ce l'ho, ce l'ho. Ma che armi di mingga. Sto facendo delle morti, cramorose. Vengo i comandi. What? Ce ne vedevi me l'ho accata qui, a Geren, nella casa. Ce l'ho, ce l'ho. UAB, alleato in sorbolo. Non è che vola? No, 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 no. Cerito? Non erano loro. Sono... Ma guardate la taglia, raga. Non sono anche quelli della taglia, po'. Neanche la macchina? Poi l'avrò ucciso. Che può fare? Eh, ho hanciato la macchina. Vado a destra con la macchina, faccio da bait. Vado a sinistra, voi. Ok, che anche sotto la strada avete argente, eh? Sì. Oh, fucking hell. Avete del gas in arrivo. What? One shot, one shot. La B, mira. Eh, non vedo. Aspetta. Puscia. Terra, quello. Siamo. Non lo vedo. Mi spara un tipo da top. No, mi ha accato a me, mi ha accato a me. Eh, non lo vedo. Terra, uno. Terra, un altro. Terra, l'altro. Questa è un bravo, raga, da me, eh. Fatti, fatti. Sono i due di prima bravi, eh. Sì, sì, sì. C'è l'altro? Non lo so, non lo vedo. Con lo spillo. Era lui. Con lo spillo. Era lui, mi sa. Ho preso una cazza di kill. 4.000 danni, 9 kill. Cassi in arrivo. Nuova zona sicura, contrassegnata. Con 4 lì, eh. arrivo. È un flyer allo shop? Sì, sì. Eh, perché? Casa mia. Matta. Apra. Mi le hai rubate tutte! Basta. Vabbè, scopri. Vabbè, scopri. Uh, scopri. 4 contro 1 che da me. Mi ha fatto salvato il culo in infinità di volte. Oh, la B. Le posso dare un bacio volante? 5.000 danni, 10 kill. In movimento. Ucci. Come on, ma? Questo M16 scioglie! Mamma mia, che arma! Una bomba! Non avevano speranza. No, sei suicidato. Spiaciccato per tirare la testa. Let's go, baby! E andiamo! Bravo, Tonio! Spiaciccato per tirare la testa. Grazie a tutti.